In molti paesi c'è una diffusa insoddisfazione riguardo a quello che è il tenore di vita dei cittadini e in questo contesto c'è evidentemente una visione dell'Europa che sta montando, che vede l'Europa più come un problema che come una soluzione. E terzo elemento, la possibilità o il manifestarsi di shock geopolitici fuori dall'Europa ma anche dentro l'Europa e tra questi shock geopolitici non esito a includere nel bene e nel male l'ipotesi di una Brexit che come forse molti di voi sanno è stata considerata dal G20 come un possibile elemento di shock che mette in discussione assetti istituzionali esistenti. Quindi una serie di elementi, oltre naturalmente nel caso specifico dell'Europa alla questione particolare dei migranti, che ripeto mette in discussione il quadro europeo complessivo sia dal punto di vista di efficienza della macchina economica sia dal punto di vista della governance.